Salve, le nostre telelamere hanno rinvenuto una riscarica a cielo aperto, riscarica formata da materiali di risulta e soprattutto Ethernet. Come potete vedere dalle immagini, lo scempio è di casa d'Augusta proprio nelle zone che dovrebbero essere controllate e seguite. Dalle immagini noterete che ci troviamo presso le saline Mignieco e nello sfondo c'è appunto il porto commerciale. Ecco un altro caso in cui l'incuria di alcuni cittadini contribuisce alla distruzione del territorio. Grazie per l'attenzione, un saluto da Gela Passanisi per Rassegna Vegarese. Grazie per l'attenzione, un saluto da Gela Passanisi per Rassegna Vegarese. Grazie per l'attenzione, un saluto da Gela Passanisi per Rassegna Vegarese.